Vi chiederete dove siete finiti. Non siete mai stati in un club di striptease. Vi racconterò la storia di una persona che ha usato. Cercate personale. Quanta è la paga? 10 euro l'ora. Ma puoi provare a esibirte da sola, come vuoi. Niente male come inizio. Eri così naturale. Beh, io sono un'attrice. Mi preparo per l'accademia. Oggi splendide. Che cosa farai? Un lavoretto più vicino a casa. Siete tutti pronti a dare il benvenuto alla nuova arrivata di questa sera? Oror! Ci sono due clienti che chiedono di te. Io vado col solito. Ti lascio l'altro. È solo un ballo privato. Niente sesso e bucca chiusa. Quello vale oro. Ciao. Tra i clienti ce n'è almeno uno che ti interessa? Non facciamo soldi facili. Li facciamo in fretta. A volte ci sono dei clienti esterni. Guarda quanto si guadagna. So che non bisogna uscire con i clienti. Non siamo puttane. Siamo ballerine. Ho detto tutto al capo. È finita per te. Ci vogliono delle tette abbastanza grandi per voi. Già. Ve lo insegno io con qualsiasi seno piccolo o grande che sia. È più facile che ci sono grandi. Grazie a tutti.